Sì, è una vittoria questa fondamentale perché loro erano settimi e quindi è l'ultimo posto dopo la zona playoff, quindi non dovevamo perdere come prima cosa. Abbiamo vinto e anche meritato secondo me, quindi sono contento. Abbiamo fatto una prestazione direi superlativa contro un'ottima squadra, infatti era partita un po' così e così, adesso sta inanellando punti, siamo contenti di averli fermati. Sì, sicuramente, abbiamo partito molto meglio, abbiamo stato 2-0 e poi potremmo andare anche in vantaggio dopo il due pari con l'occasione che ho avuto, avevo mangiato un gol, vabbè, però dopo abbiamo il secondo tempo, abbiamo meritato secondo me la vittoria, abbiamo avuto occasioni anche per fare altre golle, poi loro sono una squadra insomma, sono tutti fortissimi, siamo tutti in categoria e quindi è chiaro che sapevamo di dover affrontare una partita tosta ma forse abbiamo avuto anche più voglia di loro e quindi abbiamo portato a casa i tre punti di ritratamento.